Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Monterupo Fiorentino. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Su raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno per lavori nei pressi dello svincolo di Pietraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Puoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Grazie a tutti.